Il Meic a Camaldoli per la settimana teologica, al centro il tema della sinodalità, della democrazia. Lei in particolare si è concentrato nella fase costituente della Costituzione italiana e il ruolo dei cattolici in quell'ambito. Qual è, a suo modo di vedere, l'eredità di quel periodo se è in qualche modo anche replicabile alla luce delle sfide che si pongono in questo ambito, quello della partecipazione democratica nel nostro Paese? Le responsabilità sono quelle di mantenere in vita una buona democrazia e laddove questa democrazia funziona poco bene o mette in mostra difetti di rivitalizzarla, di correggere le cose che non vanno, senza illudersi che ciò sia facile. Ci vuole un grande impegno, un grande impegno culturale. Innanzitutto bisogna formare nuovamente l'opinione pubblica sui grandi valori accomunanti che adesso noi troviamo fortunatamente in questo testo prezioso che è la nostra Costituzione. e bisogna però per far questo correggere molto, anche criticamente. Questo non vuol dire pensare invece che con piccole modifiche giuridiche si possa migliorare radicalmente la situazione. Probabilmente dinanzi ai problemi attuali della democrazia italiana la vera prospettiva è quella di un rilancio serio di un ideale europeo funzionante caratterizzato da una forte partecipazione popolare, da una forte trasparenza. All'interno di un ideale europeo e di un ideale Stato europeo unito l'Italia può recuperare una migliore democrazia, certamente. I cattolici democratici attraverso una serie di impegni molto risalenti, attraverso molta cultura, attraverso la selezione di gruppi dirigenti adeguati sono riusciti a suo tempo a incidere molto sulla Costituzione repubblicana e devono riprendere energicamente questa responsabilità perché il funzionamento della democrazia è essenziale per tutti noi, per tutti gli interessi, per tutti gli interessi da quelli culturali, a quelli personali, a quelli economici. Ci troviamo a Camaldoli, è un luogo anche simbolo, importante per la nostra Costituzione. In quel frangente una generazione di giovani cattolici molto formati, sul quale appunto si era scommesso molto negli anni 30. Possono essere da esempio per il futuro? Lei ha parlato anche della necessità di puntare sulla formazione, sulla educazione. Sicuramente, perché quel gruppo, che non è stato l'unico, ma è stato uno di quelli determinanti alla progettazione e adozione della nostra Costituzione, quel gruppo di giovani fu formato in una società difficile, perché eravamo nel fascismo, fu formato attraverso riflessioni, studi, impegni, e occorre nuovamente riprendere la lena, cioè smettere di pensare che le cose vadano avanti da sé, che le cose vadano avanti attraverso folate demagogiche, attraverso accusa a destra e manca. Il problema è che bisogna che l'etica di ciascuno di noi e l'etica dei gruppi sociali migliori. E per far questo io credo che il mondo cattolico abbia molto da dare. Il MEIC si è dato appuntamento anche quest'anno al Monastero di Camaldoli, tante le riflessioni nel corso di questa settimana teologica. Lei in particolare si è soffermata sul dissenso cattolico, in particolare a seguito del 68, negli anni del postconcilio. Quali sono gli elementi più significativi di questa fase storica per la Chiesa italiana e qual è l'eredità che ha lasciato questa fase storica appunto alla Chiesa e alla società italiana? La Chiesa italiana dopo il Concilio Vaticano II e ancora più dopo il 1968 è stata attraversata da movimenti e gruppi che hanno reso il cattolicesimo particolarmente visibile, soprattutto attraverso le manifestazioni dei gruppi del dissenso, i gruppi della cosiddetta contestazione cattolica. Questi furono gruppi minoritari nel cattolicesimo italiano, ricordo la comunità dell'isolotto, la comunità di via Vandalino a Torino oppure la comunità di via Wagner, la comunità dell'origine a Genova, gruppi che raccolsero soprattutto giovani impegnati a condurre una lotta per la rivoluzione sociale e politica ma anche e insieme a questo per la riforma della Chiesa con l'intenzione di riuscire a cambiare la società e la Chiesa insieme in nome di una utopia, di un'idea di una società futura, di una Chiesa futura che aveva nel suo profilo degli elementi che richiamavano molto le teorie marxiste, le teorie della cosiddetta nuova sinistra, incrociate però con una lettura della realtà che risentiva molto della teologia della liberazione, delle riflessioni sulla Chiesa dei poveri e su una lettura del concilio radicale. L'intenzione di questi gruppi era di contestare la Chiesa in quanto non aveva realizzato quello che era lo spirito del concilio. Questi gruppi molto diversi al loro interno, presenti in moltissime città grandi e piccole dell'Italia, nel nord Italia ma anche in alcuni piccoli paesi dell'Italia meridionale, ecco questa varietà di gruppi ebbe una sorte molto diversa. Alcuni gruppi continuarono la loro lotta soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più politici del loro impegno, della loro militanza, altri invece più impegnati per la riforma della Chiesa. Verso la fine degli anni 70 i gruppi che continuarono in qualche modo negli anni successivi, negli anni 80 e anche negli anni successivi, a ritrovarsi furono i gruppi meno esposti dal punto di vista politico. Vale a dire che i gruppi della contestazione cattolica, che più avevano investito nella rivoluzione sociale, nell'utopia marxista-politica, andarono incontro a quella disillusione portata dalla crisi delle grandi ideologie e in particolare del marxismo. Al contrario i gruppi che pur supposizioni di contestazione continuarono a condurre una lotta per la riforma della Chiesa sulla base di una Chiesa spirituale, di un ritorno alla radicalità evangelica, ecco questi gruppi mantennero più a lungo una loro capacità di aggregazione. Alcuni di questi, molto piccoli, esistono ancora oggi, in qualche modo sono stati un po' una fiammella che ha attraversato i 50 anni che ormai ci separano dal 68. Forse può essere utile ricordare che molti di questi dissenzienti, di questi rivoluzionari del Concilio, oggi si ritrovano con fiducia e speranza in molte delle parole di Papa Francesco. Come lei ha detto, questi gruppi erano minoritari, comunque hanno in un qualche modo influenzato la Chiesa di allora e hanno una loro eredità. Qual è questa eredità? I gruppi del dissenso cattolico furono gruppi minoritari. Raccolsero certamente migliaia di persone in tutta Italia, ma non rappresentano assolutamente quello che è stata la maggioranza dei fedeli, uomini e donne, preti e laici della Chiesa Cattolica. Però questi gruppi, molto rumorosi, molto visibili in alcuni momenti della loro storia, anche sulle prime pagine dei giornali, lasciarono una eredità. Che in realtà non era ciò che questi gruppi speravano di ottenere. Perché nelle parrocchie, nelle associazioni cattoliche, penso agli scout della Gesci, all'Azione Cattolica, alle Acli, questi gruppi furono osservati dall'interno di queste grandi associazioni di massa come dei punti di riferimento. A volte da contestare, da mettere in discussione, altre volte da assecondare, altre volte da ascoltare con attenzione. Perché se contestate dalla gran parte dei fedeli e dall'episcopato, erano i modi considerati eccessivi, irriverenti, sacrileghi in alcuni casi, ricordiamo le occupazioni delle chiese, ricordiamo le interruzioni delle messe. Ecco, se alcune manifestazioni di questi gruppi erano considerati eccessivi, una parte, anche considerevole della Chiesa Cattolica, riteneva che alcune delle intenzioni, delle ispirazioni che muovevano questi gruppi del dissenso fossero condivisibili. Un'idea, ad esempio, di riforma della politica, un'idea di cambiamento all'interno della Chiesa, di un ritorno a quegli elementi di radicalità evangelica che i gruppi del dissenso avevano messo, molti di questi gruppi a base dell'allorazione, ecco, questa purificazione della Chiesa, ma anche di una purificazione della politica, furono degli elementi che, in modo diverso rispetto a quello che i gruppi del dissenso avevano pensato, però circolarono nella Chiesa. E certamente, il fatto che in Italia il Concilio fosse recepito in tempi relativamente rapidi, secondo me è dovuto anche al fatto che queste sollecitazioni del dissenso cattolico, della contestazione cattolica, comunque circolarono e lasciarono una traccia che possiamo trovare ancora oggi. Lei si è concentrato, soprattutto, sul periodo del Concilio. Quali sono gli elementi più significativi su questi temi, quello della partecipazione della sinodalità in quella fase storica e quale è l'eredità che è rimasta ad oggi? Il Concilio Vaticano II segnò una svolta importante su questo tema delle riflessioni sulla democrazia, proprio perché poco prima del Concilio ancora si era attestati su una posizione molto tradizionale che vedeva la Chiesa anche diffidente nei confronti della democrazia per tante ragioni. Il Concilio Vaticano II invece recepì finalmente la necessità di fare proprio il valore della democrazia, di fare proprio il valore del pluralismo, di fare in modo soprattutto di far sì che questi errori fossero diffusi il più possibile a livello mondiale. Lo fece anche in maniera intelligente il Concilio, cioè non elaborò delle ricette preconfezionate, ma indicò quelli che erano i valori da difendere in modo che poi i cristiani si sentissero impegnati a promuoverli un po' ovunque. Resta molto, credo, di quello che il Concilio in questo senso aveva detto. Resta uno dei principi che il Concilio riteneva validi possibilmente anche perenni e credo che siano i principi certamente a difendere ancora di più oggi in una situazione in cui la democrazia sotto tanti aspetti, anche in modi molto raffinati e addirittura anche in modo mediatico attraverso i social rischia di essere attaccata pesantemente. Quale, a suo modo di vedere, il compito di Papa Francesco in relazione a questo sinodo? C'è chi ne parla come un attuatore dopo un periodo di pausa? Papa Francesco soprattutto ha insegnato il modo e un atteggiamento che deve caratterizzare il sinodo e cioè la capacità e la volontà di discutere di non avere paura di compiacere lo stesso Papa in questo caso ma di dare proprio libero spazio a una discussione che lascia veramente emergere i doni che per il punto lo spirito secondo quello che i cristiani chiedono dona alla sua chiesa. Credo in questo senso il sinodo che c'è stato in precedenza sia stato un precedente importante. Vedremo però appunto se anche il prossimo sinodo dedicato ai giovani saprà far propria questa lezione saprà metterla a frutto. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.